Che cosa vogliono gli uomini? Le tette? No Il lato B Il lato A Lo strappono Una cosa con la bocca Qual è la risposta? Loro vogliono sentirsi eroi Niente attira un uomo più di una damigella vulnerabile Osserva Oh wow Puoi davvero piangere a comando Riesci a tenerla in bilico sulla palpebra inferiore Puoi farla scendere giù sulla guancia Ok Ma riesci anche a farla tornare sopra? Adesso tu Ok Soffri di stipsi? No, perché tante moine? Tu sei fica, basta quello No che non basta Fica non è una carriera Ti può portare regali bevute Ma dovrai pagarli in altri modi Cioè? Col sesso Penny Stop Non lo sflusa No Lo sfluso Non Si ANT Si Si